Pesce, gradite un pezzo di Beethoven? Ma magari ci usso un pezzettino, no? Se no poi ci confiammo e non ci manciamo più niente, no? Invece quello che ti volevo dire a te, se è possibile, se apriamo un po' le danze, figgi una bella focaccia, la metti a centro con un po' di prosciutto crudo, capito, di sfizio ce lo mangiamo vicino? E sei magari portato pure un po' di fantasia, di frittura, un po' di arancini, capito? Pasta cresciuta, seppla, panza rotta, e un po' anche di quelle olive che sono buone, le olive tuscolane. Ascolane. E tu mangi di quelle là, le olive tuscolane, che pure sono buone. Tu mangi di frittura. Va bene, tu puoi che sia lo vedi, poi te lo mangi, capito? Che è fatta così, va bene? Bene. Allora, principessa, prima serviamo gli escargot, va bene? Non lo so, se... Non è so, sono arrivati prima di noi, se vede prima di loro, ma se che comunque non ci tenete qua pesi, perché a fine che non ci manciamo più niente, o no? Anche se noi, se mi spazio, dobbiamo una prenotazione, proprio a nome principessa, sul libro degli apostoli, l'avanti, e lo dovrebbe tenere scritto. Bene. Bene. Principessa? C'è questo. Eeeh, amico! Dicami sì. C'è, dimente, vicino alla frittura, se potabile, un po' di ketchup, un po' di maionese, un po' di quella salsa buona, quella babbe giù, quella fumè. Bene. Ma è alla grande, frate, va che sta lavorando benissimo. Sì. Frate, cosa, cosa? Cosa? Frate. Uè. Principessa? C'è questo. E tu che sei? Il sommelier, monsieur. Capite chi è? Sì. E chi è? E il sommelier. Il sommelier? E che fa? Assaggia il vostro vino? Ma come noi lo paghiamo e tu te lo bevi? Ma chi sta fare? Ma non sapete, ma quanto prezzo? No, tu dico quanto prezzo? Non mi era soddisfazione, quanto prezzo? 1.950 euro. Ma, signore, non è il prezzo e la data? Pazzo, è pure scaduto. Mi piace stare andrima. Puoi sentire andrima, vedi? Sono dicappato. Non mi piace come stai lavorando tu. 1.0 per te. Via. Vai, vai. Perdono, monsieur. Eh, vedi, richiamano poco qua giù. Come vuoi fare il suo mestiere? Dove? Qui, qui, qui. Principessa? Principessa? Ma a me, ma pensalo, vedi? Guarda solo con te.